E ora, alcune immagini esclusive da Top Gun Maverick. Si abbatterà uno solo di voi, perderete entrambi. Vi darei una controllatina al Lego. È da vedere. Ci vogliamo giocare qualcosa, signore? A cosa pensare? Chi viene abbattuto per primo deve fare 200 flessioni. Ragazzi, sono un sacco di flessioni. Oh, è l'esercizio dopo l'esercitazione, signore. Va bene, affare fatto, signori. Si combatte, fatemi secco. Tanvoy, lo vedi? Viente sul radar di fronte. Deve essere alle nostre spalle. Piano, Maverick. Cerchiamo di non farci cacciare già il primo giorno. Contatto, contatto, contatto! Maverick in arrivo! A finito! A sinistra! Fremick, dov'è il tuo gregario? Ruster, dove sei? Ti guardo alle spalle. Arrivo! Chiari duro, chiari duro! Sbrigati bello, sbrigati! Ehi, becca, robbi a destra! Robbi a destra! Rooster vi ha salvato la vita, Belly. Ma gli costerà caro. Non questa volta, nonno! Non ti scaldare, Maverick. Ruster, sei troppo basso! Tira su, sei quasi al limite! Out of hand! Out of hand! Out of hand! Ma c'è lui! Tira! E questo te la dice lunga su chi è Rooster. Ehi, non fa scappare la pista prima che torniamo, eh! Ehi, venite qui! Cazzo! Morto! Era tutto rose e fiori in quei selfie, vero? Tira! Ehi, Phoenix! Se mettessimo a giro la voce che Bob sta per qualcosa? A parte Robert, ovviamente! Non avvocare, Bob. Lo sai perché lo chiamiamo Hangman? Oh, aspetta, ce l'ho! Baby on board! Cazzo! Salve, avviatori! Psicopatte! Non l'altro, Phoenix! Facciamolo fuori! Faccia le spalle, Phoenix! A destra! A destra! A destra! Dove sto andando? Ecco perché lo chiamiamo Hangman! Ti lascia solo come un inticcato! Abbandonare il Gregario è una strategia che non vedevo da un po'. Parla di te al maschile, Phoenix, glielo permetti? Basta che non parli al maschile di te! Che mi dici, Bob? Dov'è Maverick? Cristo, il suo muso ci sta già puntando! Toglimelo di dosso, Hangman! Per voi che ci seguite da casa, ecco come si seppellisce il fossile! Va bene, Hangman, è ora di darti una lezione! Te fuori Phoenix! Figlio di Troia! E ora tu! Coraggio, mavo! Vediamo chi sei! Vieni a prendermi! È contro il male! Hangman triunfa! Sì, sei bravo! Lo devo ammettere! Vieni a prendermi! 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 Fenix, non lo vedo! Quanto mi sono vicino! Fenix! Sono morta, coglione! Ci vediamo nell'aldilà, Pac-Man. Dove sta? Dove sta? Abbattuto. 79! Fortanza! Coraggio, a chi tocca. Beccato, ma... Accidenti! Annanna con gli occhi. Confermo abbattuto. 5 ore! 5 ore! Ci siamo. 3, 2, 1. Accidenti! Sia in aria, sia in aria! Che a destra! Pegger 1, contro misure!